parlare della valigia dei libri significa assistere a scene meravigliose tantissimi bambini attenti e curiosi l'aria si estiva ma davvero serena centro e periferie dolci e uniti in un solo filo conduttore continua sotto il croccente sole della bella stagione la bellissima iniziativa di carmelo bacco una di quelle persone che meriterebbero applausi senza se e senza ma e che vede nel punto di forza il profondo abbraccio tra i discepoli e le maestre un abbraccio particolare perché leggero e candido è stata un'idea che è venuta prima del covid che era quella di educare alla lettura ed è partita molto insordina molto semplicemente con una mail inviata delle case editrici che hanno poi risposto inviandoci dei libri è diventato importante per i bambini venire fuori dalle dalle case avvicinarsi in una piazza prendere un libro e leggerlo sta andando benissimo ma soprattutto anche culturale perché pieno zeppo di libri colmi di passioni e speranze e persino a tema libero i libri sono sono stati scelti in base all'età sono libri di avventura di narrativa si va dal dai classici ma si fa si va anche specialmente sul su libri di nuove case editrici